Buona giornata, non solo perché c'è il sole, non c'è il maestrale di ieri sera, non aggiungo e non ripeto quello che vi ho già sentito, certo da Ministro, e su questo stiamo lavorando fa specie che il progetto definitivo, e definitivo è un aggettivo che in italiano ha un significato non interpretabile, il progetto definitivo è del maggio 2003, se dopo 21 anni stiamo festeggiando la fine di un iter che fu definitivamente approvato 21 anni prima, non c'è qualcosa che la normativa non torna, perché l'autostrada del sole è stata fatta in 8 anni, quindi qua in 21 anni forse riusciamo a, anzi non forse, tolgo il forse, sicuramente dopo 21 anni colleghiamo Sassa di Conagliero e i nostri genitori per 800 chilometri ci hanno messo meno della metà del tempo, però conto che con le nuove norme, il codice degli apparti, le semplificazioni non ci siano più lungaci di questo tipo, avere la deadline che i giornalisti chiedevano quando, se entro febbraio di quest'anno c'è la giudicazione dell'impresa, penso che questo sia un passaggio irrevocabile e definitivo sì. Io ringrazio Anna, sempre che in questi 15 mesi da nord a sud sto trovando una realtà dinamica, concreta, eccezionale, che ogni tanto qualcuno cerca di tirare in ballo sull'arbone politico, mediatico, giudiziario, io invece sono orgoglioso perché ci sono delle professionalità precedenti, stavo messaggiando questa mattina con un amministratore delegato per un cantiere in Valtropia, nella mia Lombardia, sono contento che in 2023 abbiamo visto come investimenti in nord a Sardegna, il record italiano, vado a memoria, ci sono 5 miliardi di euro in fase di programmazione ANAS, solo sulla regione sardegna, tra manutenzione, nuove opere, progettazioni, quindi ho conto che la Sardegna possa aprire dalla vista dei collegamenti, dalla velocità delle infrastrutture, un rinascimento in questi cinque anni che non ha vissuto negli ultimi decenni. Ovviamente saranno in servizio permanente e effettivo i professionisti del no, quelli dei ricorsi, dei contro ricorsi, quelli del non si può, non si fa, la strada non serve, non allarmiamo il porto, non tocchiamo l'aeroporto, attenzione al pesciolino e al fiorellino, io adoro pesciolini e fiorellini ma in un contesto dove l'essere umano ha il diritto di vivere, prosperare e lavorare e quindi conto che la tabella di marcia venga assolutamente rispettata, sono contento, ovviamente oggi è una giornata a cui arriviamo per merito di tanti, non c'è nessuno che è l'unico padrone, sicuramente aver trovato i soldi l'anno scorso dopo il plan è fondamentale, perché i progetti approvati, presentati e stromazzati sulla stampa se ne contano a Misa, effetto quando non ci sono i quattrimi necessari per farla con l'opera, è chiaro che c'è qualcosa che funziona. Quindi vent'anni per arrivare al finanziamento definitivo, non è la prima volta e non sarà l'ultima volta che ripasserò da Alviero, sono sicuramente l'unico milanese che non viene a Alviero in vacanza, ma ci viene con gioia per lavoro, perché è la mia professione, c'è il tema dei vigili fuoco non solo a Alviero, c'è a Sassari, c'è a Cagliari e quindi stiamo lavorando col provveditorato alle opere pubbliche, anche qui ho trovato una situazione abbastanza originale dei provveditorati nel senso che la competenza della Sardegna è del provveditore del Lazio, quindi è chiaro che magari una riflessione sulla specificità e sull'autonomia della terra salda la stiamo facendo, come sto ragionando ho fatto l'incontro 15 giorni fa con le motorizzazioni, perché ci sono tempi non accettabili per il 2024 delle revisioni di mezzi pesanti e di veicoli leggeri da parte delle motorizzazioni salde, quindi stiamo ragionando su come interventare il personale. Il ministro del Costituzione del Sport è un mondo, stamattina ero a Sassari, la cosa è che la Sassari entrò a distrarre anche quello che stiamo finanziando per il ministero per dire il tutto però di quartiere, di alloggi popolari nel centro della città, certo può ci essere un centro della città frequentato da Sassari sì e non presidiato dalla macchia nigeriana, quello è un altro paglio di maniche di cui ragiono con collega l'interno, con collega la difesa perché sono andato a rendere omaggio e ad ascoltare e a ringraziare gli uomini della brigata Sassari, avere, vedo il prefetto sa di cosa stiamo parlando, avere più di mille ragazzi che portano sicurezza, benessere e pace non in Italia ma nel mondo, dal Libano all'Afghanistan all'Iran e avere a 500 metri una porzione di città non fluibile liberamente dagli italiani e dagli stranieri pervene è qualcosa di inaccettabile nel lato del signore 2020, avere una porzione di città che è luogo di spaccio, centrale di spaccio e di prostituzione nel cuore di una realtà straordinaria, proprio la Sassarese è qualcosa di assolutamente inaccettabile, quindi con le buone maniere perché noi siamo persone educate però l'obiettivo è di sradicare questa malapianta, questo cancro che negli ultimi anni ha sottiantato le persone salve e non salve che gli vivevano, hanno avuto l'opportunità di parlare con questo commerciante che da 50 anni resiste ed è l'ultimo negozio, è l'ultima luce in quella via tra una serie di saracinesche abbandonate, questo lo dico perché ovviamente fa parte del mio lavoro progettare nuove infrastrutture stradali, ferroviari, penso a Nuolo, la gestione della continuità territoriale, degli aeroporti, poi vado a Porto Torres in Capitaniera di Porto, però è chiaro che le città devono essere accese, sicure per tutti il giorno e di sera, ringrazio Michele perché invece di farmi alloggiare ieri sera nel 25 Stelle a Dalliero mi ha portato nel centro di Sassare dove arrivare verso le 11 da cinquantenne, bello robusto, con adeguato accompagnamento, è stato interessante, però se che sia fatto il problema del Ministro Sambini che va e viene, il problema è quella signora che ci accompagniamo questa mattina che è sopra il luogo dei piccoli, che ha un appartamento di 50 metri quadri che non riesce a vendere da anni anche a meno di 1000 euro a me, quindi vuol dire che c'è un problema, il centro a Sassare c'è. Detto questo grazie, grazie perché la giornata di oggi è il coronamento del lavoro di tanti e grazie a chi non l'ha mai guardato, perché dopo 20 anni, ripeto, stessimo parlando della postata del sole sarebbe un conto, il collegamento Sassare e Aldiero, e sì, ambizioso, io ho imparato la prima volta che ho fatto una conferenza di stampa con Alas, e qua lo dico per qualcuno che magari non è addetto ai lavori, ho sentito anche io parlare di opere d'arte, io approcciandomi da, prima di far vizio di infrastrutture e trasporti, le opere d'arte le andavo a cercare al museo, mentre invece molti gli adotti varianti, svincoli, gallerie sono effettivamente opere d'arte, non solo in genero tecnico, ma perché effettivamente è qualcosa di assolutamente unico e importante, una buona parte del budget di cui parlavamo è in manutenzione, ovviamente sono fondamentali le nuove opere, quasi come noi abbiamo, io so, la rete autostradale, quindi esito dalla Sardegna, opere che salgono agli anni 60 e 70, diciamo, e quei manufatti, un'occhiata, un controllo, una programmazione, una manutenzione, la devo avere. Quindi, vi ringrazio perché ovviamente la politica è che si divide su altri fronti, però sull'infrastrutturazione, sulla modernizzazione, sulla messa in sicurezza del Paese assolutamente fondamentale che la politica sionisca, è qualcosa che però venendo e che vi taccio veramente, non è una mia diretta competenza, ma per cui mi sono fatto, cerco di risolvere problemi che incontro, un'altra cosa che è assolutamente inaccettabile, e che ho vissuto prima cercando di lavorare in un ministero tra Sassari e Alviero, è la mancanza di connessione e di copertura delle forze. Non puoi competere ad armi pari con le altre regioni italiane ed europee, se non nel cuore della Sardegna, in Barbagia o avvicinandogli a Genna Argento, ma se nel tratto stradale passassero il gardiero, per metà del tempo non riesci a fare una telefonata e non riesci a connettarti con la rete. Quindi, anche qua, come nel centro storico, parlerò con i colleghi all'interno e alla difesa, parlerò col collega che si occupa di innovazione e di telecomunicazioni, è chiaro che con una compagnia telefonica magari è più edilizio operare in centro a Milano, in centro a Roma, in centro a Torino a Palermo. Però, siccome ci sono servizi pubblici che devono essere pubblici per tutti, non è possibile che ci siano le infrastrutture immateriali che in buona parte della Sardegna non siano a livello dell'Italia e dell'Unione. Quindi, come si chiedeva qualcosa, penso che ci occuperemo di più fattori e quindi la prossima volta è conto di arrivare con ulteriori risposte positive per l'Io e per la comunità della Sardegna. Grazie e buon lavoro.